Iogina è questa gallia nera che arriva dal Galliero qui vicino alla Fondation. Sembrava tanto delicata, schiva, invece abbiamo scoperto che è l'anima della festa. Qui nel patio con gli altri cani si è divertita tantissimo, invita al gioco, corre, gioca, scherza, fa gli agguati, mangia l'erbetta e ha le foglioline qui. Iogina è veramente simpatica, ha una buffona di corte, noi le vogliamo un sacco di bene e cerca una famiglia in Italia a cui donare un bel po' di sorrisi, vero Iogina? Grazie a tutti.